Ora abbiamo promuovuto la ricetta di pizza da l'importo, quindi mettiamo questo il tomate di 3 cheese quindi è una pizza rosa perchè questo tomate quindi mettiamo anche il ham e il cheddar cheese questo è bello perchè abbiamo già le spezie le spezie vedete? chi lo chiede? deluxe mandri bene bene ma ci aggiungiamo più le spezie le pizza le spezie 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 è pronto, ora mettiamo in l'hovento questa è la pizza speciale che mettiamo in un po' speciale come oregano, basil, parsley quindi qui 30 minuti ok, aspettiamo, aspettiamo 30 minuti ora vengo a comprare acqua quindi prende molto tempo solo un minuto per prendere questo quindi dobbiamo aspettare ancora 29 minuti è pronta la pizza è pronta la pizza è pronta la pizza è pronta, è pronto la pizza si può fare hai il tutto? si può fare il tutto è la pizza è la pizza Yaaay! Don't show the baby like to eat the pizza! Yaaay! So we try now the pizza! There's also the baby! They like to eat pizza! For this and other hundreds of videos subscribe to our channel! Thank you so much! See you next video! Ciao!